Stavi dicendo che impareremo insomma a far valere le istanze dei cittadini e a ritornare anche a fare politica, invece solamente di delegare qualcuno al posto nostro a prendere determinate decisioni, questo è una questione di tecnologie che ci abilitano a farlo e di cultura nell'utilizzare queste tecnologie, ma d'altro canto se noi andiamo indietro nella storia delle nostre società, le rivoluzioni dell'Ottocento nascono anche dalla progressiva alfabetizzazione delle popolazioni e dalla diffusione dei quotidiani all'epoca, dei giornali che leggeva la popolazione, quindi la possibilità di formarsi un'opinione raffinata, innanzitutto la possibilità di potersi formare un'opinione, cosa che magari prima era molto più difficile da fare, e la possibilità di condividere questa opinione, cioè di fare in modo che questa opinione non fosse solamente condivisa all'interno di piccoli cerchi, ma di cerchi sempre più grandi della popolazione. Mutatis mutandis, noi oggi abbiamo degli strumenti che ci permettono di fare questa cosa in modo ancora più efficace, ancora più raffinato e ancora più velocemente, quindi dobbiamo semplicemente imparare a usarlo, i nostri genitori facevano le rivoluzioni con il ciclo stile, con Twitter e poi non c'è, saranno rivoluzioni cinquettanti, passeremo dai fiori ai cinquettini. È una bella immagine comunque sì, in effetti. Senti, per passare rapidamente a un altro argomento di cui volevo parlare con te, volevo chiederti di descrivermi che cos'è Working Capital e a che punto è adesso, perché il 2017 a Milano ci sarà il Tour dei Mille, se non sbaglio. Sì, allora Working Capital è un progetto di Telecom Italia che nasce come progetto di Telecom Italia, anche se poi nel giro di tre anni si è molto allargato e oggi è Working Capital, premio nazionale dell'innovazione. Quindi sarà fatta una venture con l'associazione degli incubatori universitari per renderlo ancora più significativo e ancora più importante. È un progetto con cui, io lo definisco un progetto di corporate social responsibility fondamentalmente, cioè è un progetto in cui una grande azienda italiana sostiene dei giovani che vogliono costruire delle attività imprenditoriali e lo sostiene nella parte iniziale, nella parte in cui nasce l'idea e si cerca di capire se questa idea è fattibile. Quindi la cosa che è stata fatta con Working Capital negli ultimi tre anni è stata quello di fare molto scouting all'interno dell'università, ma non solo, nel senso che non era limitato solamente all'università, è sempre stato molto aperto, anzi le presenze che noi abbiamo stabilito su internet, nei vari gruppi etc., in realtà hanno fatto arrivare molte candidature e molte idee direttamente da internet, senza che fossero filtrate comunque in contesti universitari. A queste iniziative sono stati dati dei soldi a fondo perduto, oppure hanno avuto la possibilità di interlocuire con i ricercatori di Telecom Italia Lab, hanno parlato con lo strategy di Telecom, quindi con chi si occupa di fare ricerca e strategie all'interno dell'azienda, sono stati supportati con servizi di cloud da Topics, che è uno dei consorti per cui è internet in Italia e di cui Telecom fa parte e via di seguito. Quindi sono entrati in un piccolo ecosistema in cui hanno potuto mettere la loro idea alla prova, raffinarla, costruirla, hanno avuto delle risorse per farla e via di seguito. Questo qui è positivo, nel senso che di altre iniziative come questa ce ne sono in Italia, c'è la Banca Intesa, c'è la Fondazione Mazzotto e via di seguito. Telecom è sicuramente quella più significativa in termini anche di volume investito, stanno in totale delle risorse investite superi 2 milioni e mezzo di Euro, per un progetto di comunicazione, per un progetto promosso da un soggetto privato, è un investimento molto significativo se pensiamo che generalmente gli altri si attestano sulle centinaia di migliaia di Euro al massimo. Il problema dell'Italia è che noi in questo modo, con queste iniziative, copriamo il primo miglio, ma neanche il primo miglio, copriamo i 300 metri del primo miglio. Poi a noi manca tutta la parte successiva, cioè se uno di questi ricercatori ha fatto un buon progetto, ha dimostrato l'idea, l'ha portata avanti, gli manca il passaggio successivo di entrare in un acceleratore, di avere dei business angel, insomma di avere un supporto del business che lo aiuti a costruire il business. Questo in Italia sostanzialmente è molto deficitario, perché ci sono due strutture di accelerazione, che sono Enlabs a Roma e H-Farm a Treviso, i business angel anche per la mia esperienza italiani sono molto cauti, fin troppo cauti, eccessivamente cauti, nel senso che investono in compagnia, quindi hanno più un approccio da venture capital. Poi c'è il passaggio successivo, cioè il passaggio del venture capital anche per la quantità di soggetti che abbiamo noi in Italia che possono essere investiti, è sufficiente, comunque quando sei già arrivato a quel punto e sei già un'azienda e hai bisogno di un investimento da un venture capital sprofessionista, lo puoi andare anche a cercare altrove, non è necessario che lo fai in Italia. Manca invece in Italia quell'ecosistema che prende persone che si sono cimentate, hanno fatto delle cose, sono entrate nell'idea di poter fare un'impresa, uscita dall'università, negli spin off, e li porta poi verso un processo di crescita verso la maturazione in un'azienda dell'elettorato. Ovviamente questo non può essere il compito di un soggetto privato, non può essere il compito di una sola azienda, anche se solo le aziende si federassero tra di loro e mettessero a sistema delle risorse per coprire questo miglio, incaricando i professionisti di fare una coesione, sarebbe una cosa eccellente, ma la vedo un po' difficile perché ovviamente poi ci sono problemi di… è più grosso il marchio mio, è più grosso il marchio tuo, come facciamo… è fondamentale importanza, mi rendo conto, però rischiano di… queste visioni magari un pochettino, un po' più di breve periodo, rischiano poi di non far fare le cose sul lungo periodo. Quindi che cosa succederà il 17 a Milano? Il 17 c'è una delle tappe di Working Capital, quindi noi premiamo quattro progetti del settore… quest'anno Working Capital copre quattro settori, proprio per… mentre negli anni precedenti era solamente internet, social innovation, quindi robe legate al web e che avessero a che fare diciamo in un modo abbastanza da vicino con le telecomunicazioni. Quest'anno con il premio Nazionale Innovazione abbiamo sostanzialmente coperto… ci abbiamo lasciato fuori credo gli studi sul bizantinismo… no, fate scherzi. E quindi abbiamo Information Technology, abbiamo Social Innovation, abbiamo le biotecnologie, abbiamo nanotecnologie e l'energia e tutto ciò che è il mondo green, diciamo, quindi riciclaggio che riserva. a Milano facciamo… a Trieste abbiamo dato quattro borse di studio, due per il bio e nanotecnologie e due per il green, a Milano ne diamo due per la social innovation e due per internet, lo facciamo alla Bocconi nel pomeriggio. Ci sono tutti gli studenti che noi abbiamo fatto, dei panel, delle testimonianze e ci sono i ragazzi che competono e si ingarellano come si dice a Roma, sono in gara a prendere questi 30 mila euro a testa. A Torino chiudiamo con la tappa finale con i fuori di artificio perché è il 20 di novembre, in cui di Borsini, se non ricordo male, ai progetti di ricerca, più ci sono 400 mila euro per quattro progetti di impresa, più c'è Quantica, che è uno dei ben cercati dalle liste italiane, che ha fatto un commitment per almeno un milione di euro in una delle aziende, che è uno dei progetti che ha partecipato a Working Capital. Quindi lì, diciamo, c'è il finale con lo scoppio. Senti, giusto per tornare un attimo al discorso che facevi prima, quello che ti vorrei chiedere è per chi in questo momento volesse aprire effettivamente una startup, quali sono le possibilità anche di trovare finanziamenti? Oppure, insomma, per poter partire, ecco, al di là di Working Capital, insomma. Allora, punto primo, scordarsi dei finanziamenti. Cioè, la prima cosa che deve fare uno che vuole partire con una startup è non pensare che gli servono dei soldi. Poi, il punto secondo, dico, se no, non la fa. Si mortifica subito, diciamo, e non la fa. No, allora, guarda, te la dico anche come mia esperienza personale, perché poi, con tutto questo parlare di startup che fa tre anni, poi alla fine mi è venuta voglia pure a me, no? Quindi poi, è come dite, mi sono, adesso mi sto cimentando anch'io, no? Anche per dimostrare, sai, per sfatare anche questa cosa che chi sa fare fa e chi non sa fare fa il professore e il consulente. Quindi, allora, diciamo, vediamo se riesco a far pure io. Allora, ovviamente, quello che dico vale per startup su internet, quindi diciamo per internet company, che è il settore che io conosco meglio. Poi è ovvio che, se parliamo di biotecnologie, nanotecnologie, ovviamente lì il percorso è in qualche modo diverso. È quasi sempre il frutto di una ricerca accademica che poi diventa un prototipo che poi deve essere ingegnerizzato, che poi viene protetto con un brevetto e via di seguito. Ora, questa barriera, questo non c'è nella costruzione di una startup internet, si può partire anche molto velocemente e si può partire con un investimento anche abbastanza modesto, nel senso di spesso e volentieri basta la voglia di mettercisi dei fondatori. Questo però è anche un grande handicap nel fare questa, c'è una trappola, questa può rivelarsi una trappola, perché può far sembrare che la cosa è molto semplice, che poi noi siccome non siamo nella Silicon Valley non abbiamo il nome tutelare che a un certo punto ci mette i soldi in mano e noi possiamo andare. E questo è poi l'atteggiamento che io vedo nella maggior parte dei wannabe startupper, anzi in America li chiamano i wantrepreneurs, italiani, perché frequento quei italiani, ma sono convinto che se vado in Inghilterra, in Spagna, in Francia, in Germania ci sono i wantrepreneurs locali che avranno le fisime loro locali, ma fondamentalmente il risultato non cambia.